Buonasera, sono contento che vi piacciono le maglie, io spero che queste maglie funzionino nella maniera giusta, per dire funzionano nella maniera giusta intendo che devono vincere le partite, se vincano anche le partite allora queste maglie sono stupende, fanno tutto il loro lavoro e fanno quello che dovevano fare. Detto questo io vi auguro una buona serata e le maglie le abbiamo fatte, adesso vediamo se chi le indossa le indossa nella maniera giusta.